Inizia a un livello di... Infamous... Perfetto! Oh cacchio! Ma cos'è? Scorre davvero... No! Oh cacchio! No! No Mico mi fai paura! Scorrat! Scordatelo! And shot! And shot! E noi saremmo fuori da questa città! Cosa vuoi che ti dica? Che mi dispiace! Non devi dire niente! Voglio che tu scompaia! Perché se ti trovo le cose finiranno molto male! Eh... E ooooh! Credo che dare ascolto a col... Oh cacchio! I nemici! Oh cacchio! Oh cacchio! Oh cacchio! Oh... Oh cacchio! E' questo... Granata! Energia! Vola! Un momento qua! 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 a a a a a a ecco a no altro. un po' un piccolo minuto a terra tra l'altro ha un tarco anche il sovraccarico carmico oh cacchio prendete no scusa 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 amico non voglio farti male errore mio ma non sono qua per le missioni secondarie no scusa scusa amico no 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 scusa amico fine della strada no scusa amico 78 secondi qual è il piano ho una tarica di ventanilla agganciata all'elicottero dovrebbe stendere chiunque all'interno sfortunatamente esplorate i canoni lenti aeree sui benefici intorno mi faranno a pezzi prima di arrivi con 57 secondi allora io e li tre cannoni tu fai i tuoi bastardi e poi prendiamo la sfera esatto abbiamo un solo tentativo vai laggiù e distruggi quei canoni perfetto vedi quei jet cool colpiscono obiettivi in tutta la città preparando un'invasione da terra sapevi che se avessi perso il controllo la situazione sarebbe peggiorata non dovevi far saltare l'accoglio non mi incolperai di questo moia beh, l'ho già fatto vola giù cacchio prendi 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 perfetto, grazie non ho abbastanza tenterina perciò è la nostra sola possibilità elimina quei cannoni prima che mi distruggano molto bene dove è? muori sono attaccato corrente eh sì, l'ho preso in quel posto ma muori nooo e va bene, ho capito nooo, i bug morite morite non ci credo no, no, no energia, energia elettrica non ci credo che è che mi spara no muori no 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 energia e tu muori e va bene morite muori presto muori 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 e ora cosa pensi che stia facendo e ora pensi che stia facendo eeeh ma scusate com'è possibile che non ti prenderò stavolta energia energia l'indevato no, non cadere ok ma che fai? oh, presto, presto, col, presto, presto, muoviti, muoviti, muoviti mi sa che qua l'ho preso proprio lì presto, presto, presto muoviti ecco l'ho posto l'accel porto 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 no 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 per per m questo puerto la stupenda p web porto presto e vai a quel paese muoviti un momento ma qui c'è un cavo non l'avevo visto ma che ho muoviti 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 presto l'ho preso si sta guardando presto eh si questa è andata proprio ma proprio è andata è andata a farsi friggere muoviti 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 No 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 Poi No Andiamo con il te, mi vuoi dati. Datti una mossa. È un affetto. No. l'accento per tutto il tuo mi ha già rotto le palle il tuo cuore il cuore potevo prendere quel cavo ma su ma per quale ma per acca e che ragioni non lo fa toh presto ecco ci sono riuscito yeah stanno facendo arrivare una nave vogliono sfruttare il fatto che l'acqua può ucciderti io perdo carburante quindi devi raggiungerli tu se non vogliamo che la sfera ci sfuga ancora cacchio cacchio maledetta gravata a casa che bello sparare senza vedere dove sto sparando eh togliati di mezzo prendi e poi se tutta di mezzo cosa ci fa in cuore no perché sta non questo no poi è passato a metri città no 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 questo sorbete città danna azione Mappi di soltare la di famus